Ciao a tutti e benvenuti. Nello scorso video avevamo parlato del reticolo endoplasmatico e in particolare eravamo scesi nel dettaglio a trattare il reticolo endoplasmatico rubido. In questo video andremo a trattare le modifiche che avvengono a livello co- e post-traduzionale e inoltre l'ultimo dominio del reticolo endoplasmatico che è il reticolo endoplasmatico liscio. Più di un terzo delle proteine di una cellula viene sintetizzato nel reticolo endoplasmatico e inoltre forma, funzione e destinazione finale è garantita dall'ambiente del reticolo. I fattori che controllano il ripiegamento sono molteplici e agiscono sia durante che dopo la traduzione. Il primo è proprio il taglio della sequenza segnale che già avevamo accennato nel video precedente. Inoltre si ha la formazione dei ponti di solfuro che si formano per una reazione di ossidazione dei gruppi SH delle cisteine. Questa ossidazione è favorita dall'ambiente ossidante del reticolo. Infatti i ponti non si formano nel citoplasma perché in esso c'è un ambiente che è riducente. Un'altra modifica è la glicosilazione. Infatti la maggior parte delle proteine prodotte sui ribosomi legati alla membrana del RER diventa glicoproteine tramite il processo di glicosilazione. La glicosilazione aggiunge, tramite un legame covalente, delle catene laterali oligosaccaridiche. Gli zuccheri che compongono la catena laterale oligosaccaridica di una proteina non vengono aggiunti uno alla volta. È invece aggiunto un unico oligosaccaride che era stato preformato ed è composto da 14 monosaccaridi in un apposito sito di glicosilazione. L'aggiunta di zuccheri all'oligosaccaride in formazione è catalizzata da degli enzimi che sono legati alle membrane e che sono chiamati glicosiltransferasi. Questi trasferiscono uno specifico monosaccaride da uno zucchero nucleotidico all'estremità in crescita della catena oligosaccaridica. Abbiamo detto che molte delle proteine all'interno del reticolo endoplasmatico vengono glicosilate. In alcuni casi la glicosilazione rimane, in altri invece serve per indirizzare le proteine in dei distretti intracellulari specifici come l'apparato di Golgi. All'interno del reticolo endoplasmatico la proteina deve assumere la conformazione corretta. Per alcune proteine questo ripiegamento è spontaneo mentre per la maggior parte non lo è e infatti hanno bisogno di una serie di meccanismi e di passaggi. Prendiamo adesso il caso di un ribosoma che sta sintetizzando una proteina all'interno del reticolo. Ad un certo punto della sequenza troviamo una asparagina al quale viene attaccato l'oligosaccaride precursore il quale si trovava prima legato al dolicolo cioè a un lipide tramite un legame pirofosfato ad alta energia. Questo trasferimento avviene ad opera di un enzima che è chiamato oligosaccaride transferasi che presenta il sito attivo nel lume del reticolo endoplasmatico. L'oligosaccaride si lega ad una asparagina che presenta una sequenza particolare. Questa sequenza specifica è chiamata glicone ed è costituita da asparagina un amminoacido qualsiasi e poi treonina o serina. Per quanto riguarda l'amminoacido qualsiasi questo può essere qualsiasi amminoacido tranne la prolina. Quando siamo nelle condizioni ideali per far avvenire la glicosilazione un complesso detto OST stacca la catena precursore dal fosfato del dolicolo che è appunto questo trasportatore lipidico e la trasferisce e lega sulla proteina sul gruppo NH2 della asparagina. Dopo il trasferimento al polipeptide nascente la catena oligosaccaridica subisce progressive modifiche. Queste modificazioni che comprendono sia la rimozione sia l'aggiunta di residui di carboidrati e determinano la maturazione dell'oligosaccaride iniziano nel reticolo endoplasmatico rubido e continuano nell'apparato di Golgi. Nel RER avviene la rimozione enzimatica di due dei tre residui terminali di glucosio da parte delle glucosidasi 1 e a questo punto tutte le glicoproteine neosintetizzate sono sottoposte a un rigoroso sistema di controllo di qualità. Il controllo qualità serve a controllare che le proteine abbiano raggiunto un ripiegamento completo e corretto e che quindi possono esplicare la loro funzione. Il controllo qualità avviene è quando la catena precursore della N-asparagina ha perso i due glucosi terminali. Ogni glicoproteina i cui oligosaccaridi contengono un singolo glucosio si lega a una proteina chaperon che di solito è la calnexina o la calreticulina. A questo punto si hanno due strade possibili. Se la proteina ha un ripiegamento che non è corretto questa viene riconosciuta da una glucosiltrasferasi che trasferisce nuovamente un glucosio alla catena. La presenza di questo glucosio terminale riporta la proteina a rilegarsi alla calnexina attivando un processo di deglucosilazione cioè la perdita di un glucosio. Tutto ciò fino a che non si ha il corretto ripiegamento. Se la proteina è ripiegata correttamente e ha raggiunto quindi la corretta struttura tridimensionale viene trasportata al reticolo di transizione e da lì tramite la gemmazione di vescicole viene trasportata all'apparato di Golgi per ulteriori modifiche. Se la proteina continua ad essere ripiegata male va incontro a una degradazione che non avviene nel reticolo endoplasmatico ruvido ma la proteina è trasportata nel citosol tramite un processo detto traslocazione inversa. Una volta che le proteine ripiegate male sono state retrotraslocate nel citosol vengono rimosse le catene oligosaccaridiche e alla catena polipeptidica deglucosilata si legano alcune molecole di ubiquitina. Nelle cellule eucariotiche l'ubiquitina funge da marcatore di proteine che vengono inviate per la degradazione al proteasoma cioè un complesso multienzimatico che ha il compito di distruggere le proteine difettose o che non sono più utili alla cellula. Il proteasoma quindi provvede alla degradazione della catena polipeptidica difettosa e contemporaneamente rimuove le molecole di ubiquitina liberandole nel citosol in questo modo poi possono essere riutilizzate. Andiamo a trattare adesso del reticolo endoplasmatico liscio. A differenza del reticolo endoplasmatico ruvido il reticolo endoplasmatico liscio non presenta dei ribosomi associati alle membrane e infatti le sue funzioni biosintetiche riguardano la sintesi dei lipidi costituenti le membrane della cellula e degli steroidi. Le membrane cellulari non si originano ex novo ma derivano da delle membrane preesistenti in cui sono state inserite proteine neosintetizzate e lipidi neosintetizzati. Il REL è quindi l'organello dove sono prodotte le nuove membrane per tutta la cellula eucariotica. Infatti nel REL è sintetizzata la maggior parte dei lipidi che costituiscono le membrane i quali si associano con delle proteine neosintetizzate provenienti dal RER con cui vi è continuità. Dal reticolo endoplasmatico di transizione si staccano quindi delle vescicole di trasporto delimitate da membrana che vanno a fondere la loro membrana con la membrana dell'organolo bersaglio. Nelle cellule eucariotiche le membrane dei diversi organoli hanno una composizione in lipidi differente. Questo indica che mentre la membrana è trasportata tra i differenti organelli dentro la cellula avvengono delle modificazioni. La percentuale di ciascuna specie fosfolipidica cambia gradualmente quando la membrana si sposta dal reticolo endoplasmatico al Golgi. Questo può avvenire tramite diversi meccanismi. I fosfolipidi del doppio strato possono essere modificati da un enzima di membrana oppure possono essere fisicamente rimossi da una membrana e inseriti in un'altra da parte di proteine di trasferimento di fosfolipidi. Il REL può inoltre svolgere altre funzioni diverse a seconda delle cellule in cui si trova. Nelle cellule delle gonadi e della corteccia surrenale il REL provvede alla sintesi degli ormoni steroidei. In particolare si parla di testosterone ed estrogeni nelle cellule endocrine delle gonadi e di cortisolo invece nella corteccia surrenale. Il REL è inoltre coinvolto nella degradazione del glicogeno ad opera dell'enzima glicogeno-fosforilasi soprattutto negli epatociti. Un altro particolare tipo di REL che deve essere citato è il reticolo sarcoplasmatico o sarcotubulare che è presente nelle cellule muscolari striate che vedremo successivamente nella sezione di istologia. In breve questo svolge una funzione specifica in rapporto alla contrazione muscolare poiché è in grado di immagazzinare degli ioni calcio che vengono rilasciati nel citosol per avviare la contrazione. Con questo abbiamo concluso il capitolo sul reticolo endoplasmatico. Nei prossimi video vedremo in particolare l'apparato di Golgi e il traffico vesicolare. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farmi sapere se questo video ti è stato utile. Per il momento è tutto grazie per l'attenzione e a presto!